Ciao a tutti amici di EvryEye, siamo tornati con South Park con il nostro quarto gameplay che riprende direttamente la scorsa puntata, quella dove appunto abbiamo iniziato qui la missione per andare a recuperare Craig e abbiamo appena recuperato la chiave d'ottone se vi ricordate. Quindi adesso prendiamo così un po' di cosucce a caso qui intorno e torniamo presumo, anzi qui possiamo entrare, no, torniamo a dove diciamo era da utilizzare la chiave d'ottone ovvero qua al faculty holly. Vedo che c'è della gente armata qui nei paraggi, questo posso farli fuori? Esatto No, ok ci ho provato ragazzi Non allontanerei Ok Perfetto Posso usare Kenny penso per sedurre uno di questi maialoni No, non posso sedurvi No, però magari posso usare qui esattamente l'urlo del drago Perfetto Allora prendiamo un po' qui cosa c'è Ok Prendiamo tutto Perfetto È rimasto un superstite Ecco ora potevamo usare i libri che c'erano di più Mi hai dato, mi ha dato una forbiciata Tenuncio Il primo colpo non lo paro mai Mi hai schifato, vergognati Usiamo la nuova arma, tolano una palla avvelenata Questa arma lampeggia Prima di attaccare Un pesco Correggiare È stata impetuosa la cosa È violenta la principessa Kelly Vai Non mi tradisce mai il soffio del drago Ah, è debole contro di lui Questa ce la potremmo fare, vediamo No, 11 Magari il fuoco Pausa di pandizia Fuoco P Fuoco P Davvero quella spella è troppo P in sto gioco Ciao poveraccio, tutto bene A contanti, pennarello, matite, solletti, culo, tra parentesi, dildo Attenzione Allora, parrucca, parrucca Io voglio la chiave però La chiave è qua in mezzo magari C'è una mano lì sopra Che mi lascia presumere che No Vorrei darti una mano, sai com'è O magari con Con l'altro amichetto Dov'è l'altro L'altro tipo qua Batters Imposta amico Ok Comando amico Proviamo Esattamente Per curarlo Yeah Ora dammi la chiave Perfetto Chiave d'argento Dove dovremmo usarla Chiave d'argento Non è qui C'è uno scheletro là GG Sì c'è qua Chiave d'argento Counselor Non ci sono nemici Non mi fido Oddio Qua Beh la chiave là l'ho vista E volevo solo giusto prendere Peli pubici Attenzione ho trovato Ok Ma che mira perfetta Hai fatto cadere solamente quella Ok Andiamo Che fatica Guardate per arrivare qua Ta 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 Chi è? Ancora te Yeah No Ehhh Questo ce l'aveva Ce l'aveva anticipato Nella scorsa puntata Ci sarebbe stato il boss Vedete almeno è uno solo E come Come non detto No 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 Allora Ok proviamo a sturdirlo Ok ed è già qualcosa di buono Così almeno non ci disturba Ora vediamo quanti nemici contemporaneamente Possiamo colpire Beh due Vai martello tempestoso Buono Arriva assalto di pel di carota Morte viene dall'alto Tutti perfetto Ma sono un maestro Non so se ci conviene tenere Dai andiamo su questo Il potere della scoreggia Proprio di vampa qua Vai Ma non è stata una buona mazzata Vai Tutto il potere del soffio del drago Solo con l'ultimo call Però sei andato a fuoco L'importante è quello Curati please Che mi fai male a vedere così Proteine 40% No 90% Questa E adesso Penso lo ucciderai Vai però lo ucciderà poi il Lo ucciderà il fuoco Non è un problema Vai fuoco Incanalando Intanto sei morto Perfetto Ma quanto siamo stati bravi Abbiamo calcolato proprio bene tutto Chiave dell'armadietto Con tanti Pozione Spilla Corbici Caso questo Si Con tanti Immazza con risanamento Occhio nero Quello che avevamo all'inizio Cioè volevamo scegliere all'inizio Andiamo Si Tutti salvi Uuu Ce l'abbiamo fatta Di niente Coglionazzo E' l'unica cosa che so Mi chiamo Yeah Uh possiamo potenziare l'abilità Ok Potenziamo Se miglioriamo questa Infligge danni ai nemici Che si stava subito sopra Oh Finalmente Se rendiamo anche questa Multiattacco E' proprio Il top Ah no Era il 4 Aumenti i danni Di abilità Dopo una riuscita perfetta Ah quindi sempre Praticamente Va benissimo Ehm Prossimo punto Fra tre Questo va bene Ehm Torna da cartone Negli altri Va bene Zitta vecchia Scappi Scappi Ok Torniamo Cos'è che c'è qua Uomo orso Maiale Allora Torniamo dai nostri amici Poi le qua secondarie Vediamo Ehm Qua Andiamo È facile perdersi Nei boschi Eh non mi ha chiamato Coglionazzo è già qualcosa Ah beh Da qui Ora siamo Sir Coglionazzo Del bardo Che sai che sarà il bard The bard The bard Lo so In mano La pacchetta Dell'arte magica Che bella Brilla al bugio pluminare La strada Mi sento Questa toglie di più Uh Scintillosa Anche questa è nuova Tacco perfetto Fattenere Uh ma siamo Siamo diventati Siamo diventati OP Mi piace Craig ti ha inviato Un nuovo messaggio Craig è ora Single Ah mi spiace amico I ladri lavorano da soli Lei era un peso Per me GG Eccomi La petomanzia Sia Ok così Dov'è la differenza Wow Kenny Salve Poverino Cioè Vai Hangar Petomanzia Mi spiace La petomanzia Non perdona Sarà fatto il mio maestro Ma la locale è l'asino Sorgnone Amici portate voi L'asino Sorgnone Ah no ok Ma guarda poteri Siamo già pieni Fino all'orlo Perché Tutti dietro c'è spugli Ah Casa di Ecco su Twitter Ah Twitter Corvo messaggero Sorcoglionato E' bellissima Fata birra Adesso si saltano Tutti addosso Pam Se gli ha lanciato Caramelle Per ucciderli Ci tapperemo le orecchie Oddio Vediamo L'è nascosto Con tanti cacciavete Più che chiavetto Sui macchinino Eccolo lì Non è che ci voleva Un genio Devo fare una scorigina Sulla candela Eccolo qua Oh jesus It's the bar Tananana Am Prepare for battle W-w-w Wriglings Elps Non stai tanto bene Ah ecco Deucebag It's a trap You should have never come here You humans I am a level 10 And with my loot I shall power up my elven guards With magical songs of inchin It's an ink Ink Tec Magical songs of inchin Magical songs of inchin Magical songs of inchin Il gioco mi suggerisce di saltare Magical songs of inchin Io ho fiducia Ce la puoi fare Ce la puoi fare Ok Non ce la puoi fare Magical songs of inchin Non eralo qua Tagliente Non eralo qua Ce la dico L'accogliente È il colpo Non ti ne riesco a colpire A1 Perché sono messi in posizione Barbona Perciò dato che la posizione Non è favorevole Gira Perfetto Precettina Aia Aia Butters I have a nice lance That she set up on The maiden from stoneberry Who is also Inaudita al diaframma La dama era proprio tua mamma Oh mio dio Please Please Debole Vai a manetta Anche il potenziamento Direi che l'ho massacrato È poco Tu curati però Perché Magna Magna Ok Magna E ora Canisciti Ciurbi No È morto La prima volta che mi schiatta qualcuno È quella di prima È già finito le battute Mi spiace Potevi preparartene E qui Onde evitare Rischiare Qual è quello che È il tacco Giusto È il tacco Vai il profumo del tacco Ti tirerà su E adesso Con cattiveria assoluta Qualcosa per attaccarvi Tipo tutti Per forza Per forza questa Ah Mi hai fatto buttare via la Che cattivo Mi ha fatto buttare via La skill così Brutta persona Vai Mano santa Paca sulla spalla Va tutto bene Dai abbiamo fatto fuori Quello là Subito Stare qui a perdere tempo Con sti qua Ma avete stufato Dai Ecco L'importante è che siete morti Guarda Eh vabbè Ma muori sempre Finisco senza di te Mi spiace Ah Tipo se non mi conviene Non mi conviene molto Mi pare che sono tosti Questi Perché altro Rompe le palle Quello lì che Quello lì che Continua a buffarli Più che altro Ancora vai Boh A posto Potevo anche non rianimarlo E adesso Capi eh Beh Dio Sei quello che è morto Due volte Sei te Petomanzia Vieni premuto RB Ok Petomanzia È Questa Vai No Non è servito a nulla Ma Vabbè oddio Forse qua potevamo Ok Così Uh Perfetto Ora qua Possiamo usare forse L'altra Vediamo Perfetto Perfetto Qua non mi sembra Una buona idea Passare da qua Ok Ok Il nostro timer Ehm Non lo so ragazzi Cosa potremmo provare Per scamparla da qua Proviamo Ora l'urlo del drag No Proviamo l'altra Dai Proviamo con la petomanzia Aiaiaiaiaiaiai Via da lì Via da lì Stupido No Così Esatto No Ah c'è il怎么样 No 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 Sei mosso Sei mosso da lì Non volevo Ma Sono stato proprio Stupido Stupido Ma proprio Stupido Stupido all'infinito Ragazzi Vabbè a sto punto Vabbè facciamoli fuori va Facciamo prima ragazzi Ma tanto non c'è più il bardo No more bardo Che è quello si sta a proteggere Scusa Perché è sboccato? Ah perché è schifato Vai vai vomita vomita E vabbè se lo curi però Facciamo fuori questo va Massacrato proprio E sta andando anche a fuoco l'altro Perfetto Colpirvi tutte e due Non si può Dai I'm sorry I'm sorry Vabbè almeno non l'hai curata Aia non t'ho visto Non tolto niente Noo Perfetto Grazie Il fuoco è sempre il nostro migliore amico E questo lo massacriamo Semplicemente proprio lo facciamo scomparire Dalla faccia della terra A posto Yeah Mi fate spegnere la corrente adesso Anzi prima vi depredo Scusate Grazie Oh ma Bravo Ah Sì Un po' sveglio eh Siamo Ah ok Ti curo ti curo Tranquillo Non ti arrabbiare Di qua Così Così Vai Maestro del L'oppio Sì ce l'abbiamo fatta Andiamo un po' Salva Cartman Vabbè dai salviamo ancora Cartman Salviamo Cartman E questo fiammule Non si può stoppare un video Senza salvare Cartman Dai Oh no Eh dai Ditemelo Non possiamo non salvare Cartman Via Lasciami in pace Molesto Non toglie odio le frecce spinate Eh boh Non ci ha armato Già non ne avevi abbastanza C'è un cartone di pizza Che ti protegge Allo che Eh vabbè Quanto lo menano Quel poveraccio Però Ok Quello è morto Per il fuoco Perfetto Questo sta Sta per vedere La morte Oh mangia qualcosa Ok Quello muore Tanto non c'è bisogno Quello è stra pieno di armi C'è pieno di armatura Ok Il fuoco I danni che fa il fuoco Sono qualcosa di assurdo Vai Perfetto Perfetto Ok Attaccano sempre te Beh giustamente sei il tank Buono Attacco violento Adios No Fuoco No ci penso io Dove il fuoco non arriva Uno Gli ho tolto uno Oh non mi ha ammazzato Oh ha ucciso Più nemici Il fuoco di me Sì 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 Cura il king Vai Il ketchup Ha preso Kenny Che la stupreranno Ok ragazzi Non ce la facciamo Andare avanti Perché Quanto ho capito Poi ci saranno ancora altri scontri Altre cose Davvero diventa troppo lunga Che dire Se volete a tutti i costi Uncora una parte successiva Scrivetelo nei commenti Mandate ancora email Come avete fatto Per questi due episodi Insomma Fatemelo sapere Se no magari cerco altri giochi Con cui andare avanti Diciamo che Noi lo facciamo Cioè questi gameplay Sono per voi principalmente Quindi Siate voi a decidere Ecco nel vero senso della parola Qui è tutto Per la rubrica di Happy Gamer Per questo South Park Questa seconda parte Andate a vedere la prima Iscrivetevi al canale Per vedere altri video E niente Ci vediamo al prossimo video Bye bye